Il telefono. Dov'è il telefono? Dove l'ho messo? Ecco. Cosa manca? Cos'altro devo portare? Gli umani si comportano davvero in modo strano. Hai proprio ragione. Dove sono le chiavi? Barkos, hai di nuovo mangiato le chiavi di casa? No, te lo giuro. C'è l'angelo! Stupidi quadrupedi! Dobbiamo prepararci. Prepararci per cosa? Chiaro che il resta per affrontare una battaglia contro uno dei nemici del Reale. Vorrà i suoi fidati cagliottieri al suo fianco. Non mi serve nient'altro. Devo scelere la porta. Ma sto dimenticando qualcosa.